Oltre 1.600 noleggi, 851 abbonamenti e più di 4.500 chilometri percorsi e 50 stazioni in città che aumenteranno entro la fine dell'anno con altri 130 mezzi e oltre 200 già presenti. Due settimane è appena, ma è già un successo se si considera che siamo in pieno inverno. Il nuovissimo bike sharing avviato in città piace molto ai baresi dopo l'insuccesso della prima sperimentazione dell'azienda di trasporto pubblico urbano che ormai affonda le sue radici nella prima consigliatura emiliano nel 2007 e che ha lasciato sparse in città fino a qualche tempo fa ruderi di rastregliere. Ma i baresi evidentemente sono cambiati e l'amministrazione De Caro dopo il successo con i monopattini ha voluto dare una seconda chance alla città con le nuove bici di Vaimo. L'obiettivo è ridurre le emissioni di CO2 nell'aria e garantire un servizio dagli standard europei. Più recente invece è l'installazione delle moto elettriche che in meno di una settimana può contare a appena 136 stacchi, ma i numeri sicuramente con l'arrivo della bella stagione sono destinati ad aumentare. Intanto, rimanendo nel segno della mobilità urbana e sostenibile, dal lunedì prossimo 13 febbraio partirà la campagna abbonamenti Amtab a 20 euro, quella dedicata ai baresi residenti e domiciliati e agli studenti. Si chiamerà Move Team Bus 365 e darà la possibilità a tutti i fruitori di viaggiare per tutto l'anno sui mezzi pubblici della città. Questo è stato possibile grazie all'impiego di un fondo PON Metro da 5 milioni di euro che il Comune ha voluto investire nella mobilità sostenibile.